Un altro fatto di questo Valcec, questo mio collega, era che una volta eravamo nell'ufficio, io ero al bar, stavo mangiando un panino con Krauti, Wüster, tranquillamente lì. Lui entra dentro, oh ciao, come va la cosa? Sapendo il mio difetto che quando mangio, se uno mi fa ridere, non riesco a tenere in bocca quello che sto mangiando, mi dice una cavolata apposta e si mette davanti. Cosa faccio? Io comincio, rido e spunto addosso tutti i pezzi di Krauti e di Wüster che stavo mangiando, lui aveva la barba in quel periodo, addosso sulla barba e lui stava lì a penzolo dove pendeva dalla barba i pezzi di Krauti e di Wüster dicendo agli altri, vedi, lui quando io gli dico qualcosa e lo faccio ridere, fa così, ci sta mangiando, mi spunto in faccia tutto quello che sta mangiando e continuava a star lì, non è che si puliva o altro, niente, tranquillo, gli altri ridevano, se uno poi rideva, lui caricava di più la cosa apposta perché per farlo ridere ancora di più quelle altre persone, era un suo piccolo difetto, chiamiamolo così.